Benvenuti su Gossip in the News. Greta Rossetti ha deciso di condividere un momento delicato della sua vita con i suoi follower, che hanno notato la sua assenza dai social negli ultimi giorni. L'influencer ha spiegato di essere un po' preoccupata perché deve affrontare un intervento chirurgico per rimuovere una ciste e di provare una certa apprensione per la situazione. Attraverso alcune storie su Instagram, ha voluto raccontare la sua situazione e il suo stato d'animo. In queste storie, Greta ha spiegato, ho notato che molti di voi mi hanno scritto, dicendo che sembro giù triste, ma non è così. Ho scoperto che devo sottopormi a un intervento chirurgico per rimuovere una ciste a causa della mia endometriosi. Questa ciste si è ingrossata e mi sta causando un forte dolore alla gamba. Ho già iniziato a prendere antidolorifici perché il dolore è davvero insopportabile. Finché non affronterò l'intervento, non riesco a essere al 100% presente sui social. Domani mattina dovrò fare delle analisi del sangue per pianificare l'intervento. Greta ha deciso di essere sincera con i suoi follower, condividendo le sue preoccupazioni e i suoi sentimenti durante questo momento difficile. I suoi ammiratori le sono stati vicini e le hanno inviato messaggi di sostegno e affetto. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla sua situazione e le auguriamo una pronta guarigione. A presto con nuove notizie.